Buon sabato a tutti, buon sabato a tutte! Stavo guardando questa polemica che sta facendo la dottoressa Viola, ve la ricorderete no? Una delle dottoresse star televisive che durante il covid ha tenuto banco insieme a Bassetti, Burioni e Company. Beh adesso se la prende con chi? Con i produttori di vino, con il vino italiano. Sta dicendo cose che stanno facendo sicuramente discutere tutti. Non solo i produttori ma anche i consumatori del vino, del vino italiano. In questi giorni ne ha detta una abbastanza pesante, anzi direi molto molto pesante, perché è riuscita a dire Antonella Viola, la nota dottoressa, che chi beve alcol ha un volume di cervello inferiore e rischia pure il cancro. Quindi attento che siate collegati per discutere di questa cosa. Buon sabato Rita, ciao Giulia, ciao Giuseppe, ciao Antonio, ciao Luca e ciao a tutti. Questo è un tema che farà discutere sicuramente nei prossimi mesi, perché non penso che i produttori di vino italiano accettino di essere messi paragonati, equiparati a quello che è il fumo, le sigarette. Cioè i produttori di prodotti che di fatto fanno morire, fanno morire. A prescindere due sigarette al giorno non fanno male, no, fanno male anche due sigarette al giorno. Quando invece un bicchiere di vino, da che mondo è mondo? Gente che è arrivata a 100, 105 anni continua a berlo e dà una vita e ha pure 100 anni. Tante persone anziane che bevono un bicchiere di vino dà una vita. Antonella Viola comunque è ufficiale, ha detto questa frase pari pari. Chi beve alcol ha un volume del cervello inferiore e rischia anche il cancro. Per chi non si ricordi la dottoressa Viola è questa, guardate. Questo è il gazzettino che ha pubblicato la notizia. Questa è la dottoressa Viola. E nota le cronache durante il Covid, che io ho contestato più volte la dottoressa Viola per quello che diceva durante la pandemia generale, la pandemenza generale. E andando a vedere l'articolo andiamo a capire cosa è che è successo. Padova, l'alcol fa male, punto interrogativo, sembra proprio di sì. E anche un consumo moderato dal mezzo al cervello aumenta il rischio di tumori. A dirlo chi è? Antonella Viola. Sto leggendo il gazzettino.it. Ricercatrice e docente dell'Università di Padova che dunque condivide il via libera al provvedimento dell'Irlanda che renderà obbligatorio per chi? Per i produttori di bevande alcoli con l'inserimento sulle bottiglie e delle lattine di un'etichetta che avverte sui rischi per la salute umana del consumo di alcol in particolare sul legame tra tale consumo e il cancro. Premetto che sono giorni che ho iniziato questa battaglia a sostegno del nostro vino ma non perché sia un amante particolare del vino perché io ne bevo veramente in modo moderato ma perché il vino intanto ha una tradizione italiana e storica da secoli. Seconda cosa è un prodotto che si usa veramente dai romani mi ricordo nei film il vino c'era proprio utilizzatissimo. Detto questo è un prodotto veramente importante per l'Italia fa lavorare tanta gente, ha un mercato enorme, parliamo di Vin Italy esempio della fiera internazionale conosciutissima una fiera che è amata e seguita in tutto il mondo. Queste affermazioni sono gravi sono gravi perché i produttori dicono l'esatto contrario con degli studi medici alla mano rispetto a quello che dice la dottoressa Viola. C'è proprio un post suo, Radio Rai ne ha parlato anche con un consumo moderato di alcol il famoso bicchiere di vino è un pasto al pasto o all'aperitivo dopo il lavoro possono rappresentare un rischio per la salute. L'etanolo è cancerogeno. Dottoressa Viola sono affermazioni molto pesanti bisogna a mio parere pensarci prima di farle e limitarle perché sono affermazioni a mio parere gravissime. L'alcol, qualunque tipo di alcol secondo la dottoressa anche quello contenuto nella birra, nel vino, nell'aperitivo è un cancerogeno ha munito la ricercatrice e gli studi scientifici hanno confermato che anche un drink al giorno aumenta del 6% nella donna il rischio di cancro alla mammella e già con il secondo bicchiere questo rischio aumenta al 27%. Insomma, il classico bicchiere di vino a tavola non fa affatto bene alla salute anzi può essere causa di problemi seri. Viola ha anche ricordato che in Italia ogni anno ci sono oltre 10.000 casi di tumore provocati dall'alcol e che già nel 1988 l'agenzia internazionale mi è uscito da questa cosa qua nell'88 l'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e l'organizzazione mondiale della sanità hanno inserito l'etanolo nella lista dei cancerogeni di primo livello cioè nella lista di quelle sostanze che di fatto come l'amianto di fatto come l'amianto quindi secondo loro il vino contenendo l'etanolo è uguale all'amianto in sostanza le sigarette, l'amianto quei prodotti che ci ammazzano chi beve alcol ha un volume del cervello inferiore questa affermazione andiamo a capire perché i tumori direttamente associati al consumo moderato di alcol ha detto ancora la viola sono quelli che appunto colpiscono la mammella il colon retto ma non solo anche la bocca l'esofogo, la laringe e il fegato a questo si deve aggiungere anche una recente pubblicazione sulla rivista Nature Communication che è una buona rivista è una rivista autorevole secondo la dottoressa e per tutti in verità e ha dimostrato in maniera molto solida che le persone che bevono uno o due bicchieri di bevanda alcolica al giorno, quei famosi due bicchieri di vino al pasto come aperitivo dopo il lavoro ebbene queste persone hanno un volume del cervello inferiore rispetto a chi non beve e presentano delle alterazioni strutturali proprio visibili quindi anche un consumo moderato secondo la dottoressa e queste a rivista il cervello di fatto ne subisce conseguenze vabbè ovviamente i produttori c'è la replica di intanto sia dei partiti che dei produttori di vino perché Forza Italia e La Lega hanno detto la dottoressa Viola autorevole, medico e divulgatrice scientifico ma ritengo sbagliato far passare il messaggio che bere vino in modo moderato e consapevole faccia male dichiara questa è la dichiarazione del consigliere regionale di Forza Italia in Veneto Alberto Bozza ci sono diversi produttori che stanno diversi produttori che stanno facendo delle azioni e stanno preparando delle azioni perché vogliono salvaguardare quello che loro lavorano da una vita ovvero quello della produzione di vini dobbiamo capirne di più dobbiamo capirne di più dove vogliono arrivare l'Europa dove vuole arrivare vuole distruggere completamente il tessuto economico di diversi paesi tra i quali in particolare dell'Italia il dubbio è l'ecito perché vogliono non farci più produrre carne perché la carne non va bene quindi mangiamo insetti vogliono togliere i vini togliamo i vini perché i vini ah i vini poi italiani parmigiano attaccato più volte olio d'oliva fa male pure quello cioè vogliono veramente forse distruggere il tessuto europeo italiano è così conveniente la mia domanda che vi pongo la pongo a voi a casa e rispondete è così conveniente rimanere in questa Europa che quotidianamente ne trova una per distruggere il nostro tessuto economico sono pochi collegati perché all'algoritmo queste cose non piacciono perché evidentemente dall'alto è arrivata proprio là è dall'alto è arrivata la volontà questa volontà chiara quindi questo ordine di distruggere le aziende vinicole italiane che io sto difendendo in questo momento ma noi non demorderemo anche se non fate vedere queste notizie queste discussioni pubblicamente tenendo nascosti con questo shadow banning sta calando vedete sto parlando di loro sta calando il numero di collegati noi non ci fermeremo continueremo questa battaglia perché non vogliamo che il nostro tessuto economico le nostre aziende storiche sia artigianali che aziende importanti vengano penalizzate da questa fuffa generale che per me rimane fuffa generale perché è da migliaia di anni che si beve il vino in Italia quindi fatela finita cortesemente fatela finita vino bevuto con chiaramente moderazione per me non ha mai fatto male nessuno poi negli studi potranno direvi tutto anche l'acqua ci sono degli studi se andate su wikipedia trovate degli studi che se il corpo umano assume più di 5 litri di acqua in acqua perché sennò puoi morire ad ogni cosa c'è un limite e ci vuole un equilibrio ciao a tutti e buona serata buon pomeriggio a tutti ciao a tutti